Gioca il Barletta riposa in Lecce, i Biancorossi di Neve Orlandi ospitano al Puttile il Benevento, i Salentini restano ai box in virtù dell'abbinamento con la Nocerina, esclusa già da questo torneo. Non ha più obiettivi da raggiungere in questo campionato, in realtà non li ha mai avuti, può solo puntare ad arrestare la serie negativa il Barletta nel match interno contro i Sanniti, in corsa invece per un piazzamento playoff e con motivazioni decisamente superiori a quelle dei Biancorossi. Resterà alla finestra invece il Lecce, che guarderà però con attenzione agli incontri di Frosinone e Perugia, di scena rispettivamente in casa con la Salernitana e ad Ascoli. Tanti gli incontri interessanti che propone il 29esimo turno del campionato di Serie B, uno in particolare l'incrocio allo Iacovone tra il Taranto e la capolista del Girone H e il Matera, ultima chiamata utile in chiave, promozione diretta per gli ionici allenati da Aldo Papagni, che devono conquistare l'intera posta in palio per perfezionare l'aggancio in classifica alla formazione di Vincenzo Cosco. Possono approfittare del derby Appulo-Lucano le altre inseguitrici, il Marcianise che ospita il Gladiator e il Monopoli che gioca al Veneziani, contro la squadra più in forma del momento, il Francavilla. Anche i Sinnici sono in corsa per il salto diretto di categoria, discorso che vale. Anche per la Turris che ha una gara in meno rispetto agli antagonisti, i Corallini se la vedranno al Ventura, contro un Bicelle che invece può chiudere in anticipo il discorso salvezza. Il Brindisi per rientrare nella griglia play-off deve battere in trasferta il Mariano Keller. Punti in palio solo per la permanenza invece nel derby tra Manfredonia, con la novità Vadacca in panchina e San Severo, e nel match tra Real Metapontinuo e Grottaglie. In eccellenza infine la Fidelisandria deve continuare a vincere per inseguire la vetta della classifica distante tre lunghezze quando mancano quattro giornate al termine della stagione regolare. I biancazzurri di Nicola Ragno non possono concedersi distrazioni nel match casalingo contro il modesto Castellaneta e fanno il tifo tra virgolette per la stella Ionica Massafra impegnata in casa proprio con la capolista Gallipoli. Interessante anche la sfida tra Mola e Trani. non avrà problemi ad aggiungere tre punti al proprio totalizzatore stagionale invece da Libertas Molfetta che sfida la Cenerentola Manduria al Paolo Poli.